buongiorno buon pomeriggio e direi pure buono buon appetito a me avevo già messo in bocca la prima mezza penna cominciato il video facendo vedere che metto la spolverata di grana e poi fortunatamente al primo minuto mi sono accorta che non avevo messo il microfono nemmeno questa volta perciò visto che il video era appena cominciato da un paio di minuti ho ricominciato e ho messo il microfono che già ho sbagliato l'ultima volta allora cosa si mangia oggi è domenica domenica è domenica sono le due più o meno del pomeriggio tiriamo sul tempo fa proprio ormai sono quelle giornate un po uggiose un po così brutte ecco ho fatto il ragù l'avevo fatto ancora una settimana fa anche di più e poi io faccio le le vaschettine e lo congelo perciò oggi ho detto tiro fuori una vaschettina faccio un po di pasta così ci faccio pure mukbang ecco perciò mezze penne con ragù e una spolverata di grana saranno lì circa 150 grammi più o meno ecco le mezze penne non dico che sono 80 grammi saranno fate solo per me saranno più o meno 150 grammi buon appetito non vi dico buona domenica perché sto video qua non so quando uscirà io vi dico che lo sto registrando di domenica di domenica però uscirà in settimana qua è tutto ormai halloween ho messo il cerchietto dei dei pipistrellini l'ho modificato perché aveva il coso lungo qua io l'ho tagliato e l'ho attaccati qua con la colla a caldo perché altrimenti essendo troppo lungo non ci stava il cerchietto nell'inquadratura dovevo fare il video così perciò l'ho tagliati devo modificare anche gli altri perché sono tutti troppo alti e non ci stanno l'inquadratura e l'incollo con la colla a caldo così sono carini ugualmente ecco non ci ho messo stavolta la salvia perché sapete che a me piace la salvia so che tanti dicono non ci va non ci va però io credo che il ragù ognuno lo fa a modo suo ognuno ci mette quel che vuole a me solita io vi dico come lo faccio io velocemente io solitamente metto carota cipolla e sedano che è un pezzettino d'aglio soffrigo con un cucchiaio due di olio poi gli butto giù la carne macinata la rosolo sfumo col vino bianco gli metto gli aromi quello che c'ho ecco quello che c'ho di aromi solitamente a me piace molto mettere la salvia c'è chi piace l'alloro c'è chi piace il rosmarino ognuno mette quel che vuole chiodi di garofano ognuno mette quel che vuole io stavolta gli ho messo solamente il sale e basta non gli ho messo altri aromi dir la verità perché la salvia non ce l'avevo perciò e poi gli ho fatto andare per circa tre ore ma ne avevo fatto una bella pentola e dopo ho fatto le vaschettine e li ho messi in freezer perché io uso le vaschettine quelle della ricotta che io le tengo le lavo e le tengo e poi mi faccio le vaschettine una porzione 2 le metto in freezer così è comodo che quando hai fretta o non hai voglia di mangiare un ragù o cosa prendi e ce l'hai fatto anche perché siccome che il ragù perché sia buono almeno per me lo faccio andare due tre ore anche di più cioè non è che puoi fare una ciotolina di ragù quando lo fai ne fai tanto che almeno dopo lo metti via capito ecco cosa vuoi avendo sbagliato il video il biscotto io te l'avrei già dato ti do una pasta se vuoi basta però ho già dato il biscotto perché ho sbagliato che non avevo messo il microfono perciò il biscotto glielo avevo già dato oggi stamattina ho sentito mia zia che vi saluta che non vi ho più parlato di lei ho sentito mia zia e praticamente vi ricordate che vi avevo detto che si dovrebbe operare dell'anca perché fa fatica a camminare perciò è da operare però per operarla gli hanno detto che dovrebbe come minimo perdere 20 chili perciò il medico gli ha consigliato di andare in una clinica e dimagrire perché a casa lei non ce la fa il fatto è che anni fa era già andata era andata all'ospedale perché voleva dimagrire doveva non voleva c'è stata circa una ventina di giorni ed è ingrassata due chili invece di dimagrire è ingrassata due chili nel reparto apposta nel reparto apposta dove dimagrisci capito dove ti danno tutto senza sale tutto pesato dove ci sono i dietologi tutto quanto lei è riuscita ingrassare due chili ma perché vuoi dire impossibile no con mia zia niente impossibile con lei tutto è possibile sapete come ha fatto praticamente lei la sera la sera prendeva verso sera no lapo basta t'ho già dato basta tanti da un pescettino di carne qua ecco ecco basta adesso dai praticamente lei la sera cosa faceva prendeva con la scusa di andare a prendersi il giornale la mattina andava giù ok con la scusa di telefonare ecco perché in stanza aveva un'altra signora perciò lei lasciava detto alla signora se passano per le visite o cosa di che sono andata giù a telefonare di che sono andata giù a prendermi il giornale ok lei apprendeva la mattina andava giù con la scusa di prendersi il giornale andava nel bar dell'ospedale che dappertutto c'è e si prendeva le brioche ecco si prendeva le brioche stava lì si faceva la sua colazione con le brioche cappuccino poi prendeva un giornale saliva e li mangiava a pranzo mangiava quello che gli davano lì all'ospedale la sera scendeva un'altra volta scendeva la sera pomeriggio tardi e si prendeva il mangiare lì sempre del bar dell'ospedale che poi e bar però vendono i panini caldi le pizzette brioche vendono un po di tutto capito è proprio all'interno dell'ospedale come credo in tutti gli ospedali no perciò lei prendeva e mangiava i panini capito la sera andava giù verso sera andava giù si faceva scaldare uno due panini caldi una pizzetta quel che era e mangiava e andata bene per un po è andata bene per un po finché poi pesando la vedevano che non dimagriva ma come mai come mai come mai ecco fino a che una sera una un pomeriggio tardi in questo bar è capitato un medico del reparto dove ormai la conoscevano perché era due tre settimane che era lì perciò la conoscevano no e la bella beccata lì che si perché poi non è che li mangiava lì è perché lei era fur si credeva furba lei prendeva lì la roba poi usciva andava nel giardino dell'ospedale dove ci sono le panche si sedeva lì col suo giornale mangiava beveva ecco così era però la beccata la beccata appunto il il medico lì del reparto e l'hanno mandato a casa gli ha detto che l'aspettava nel suo ufficio è andata su gli ha fatto il foglio e l'hanno mandata a casa gliene ha detto di tutti i colori ma ha maggior ragione ha avuto ragione ha avuto ragione non è che perché poi prende gli telefono mia cugina dicendo ora devi venirmi a prendere perché mi dimettono mia cugina io mi ricordo ancora sono passati un po di anni però mi ricordo che mia cugina mi fa vieni con me la dimettono la mamma metto come mai boh ha detto grazie mito non dobbiamo andare a prendere perciò andiamo non poteva raccontarci bugie perché il medico nella carta di dimissione gliel'aveva scritto che veniva dimessa per adesso le parole non me le ricordo per incompetenza gli aveva scritto gli aveva scritto comunque gliel'aveva scritto perciò quando siamo tornati a casa in macchina ce l'ha dovuto raccontare ci ha detto la verità ci ha detto che il medico l'ha beccata lì che mangiava e quando è andata su nel in ufficio che gli ha detto perché si fosse comportata così risposta sua mi ha detto il dottore io sempre fame così gli ha risposto io sempre fame perciò il medico giustamente gli ha detto signora lei ci ha preso in giro per tot settimane che è stata qua noi siamo qua per lavorare aiutare le persone se tutti facessero come lei e la dette di tutti i colori ma lei è dovuta pure restare zitta perché aveva ragione cioè non è che non aveva ragione aveva ragione perché insomma se tu vai lì ti ricoverano tiri via il posto di una persona che magari potrebbe venire al tuo posto e invece di fare la dieta come dovresti fare mangila qualunque anche lì e ingrassi invece di dimagrire capito a beh adesso la racconto così un po blandamente però quella volta vi assicuro che io mi sono arrabbiata e mia cugina quella volta sua figlia è rimasta un bel po senza parlarvi non è più andata a casa di mia zia mi ricordo per 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 un mese abbondante è perché mi ricordo che l'ha accompagnata a casa l'abbiamo accompagnata a casa l'ha lasciata la e poi è andata via e mi chiamava a me mia zia dicendomi dai prova a parlargli sono sbagliato quella per fargli far pace perché mia cugina era proprio arrabbiata ma aveva ragione cioè io non è che non è che potevo dirgli noi torto dai poverina quella anche perché insomma non si tratta di una bambina capito perciò e poi era per la sua salute perché doveva dimagrire perché si doveva operare non mi ricordo se era delle vene mi sembra di sì che era delle vene alle gambe che poi se operata mi sembra delle vene alle gambe che si doveva operare una roba del genere però quella volta pure io mi sono incazzata non è che mi sono messa a ridere magari adesso puoi riderci anche sopra e dire vara qua però so cose che non si fanno perché specialmente all'ospedale cioè cioè non puoi comportarti così capito perciò adesso no che il medico gli ha detto sta roba qua tu diresti vabbè gli sarà servito da lezione a non lo so mica è perché è testarda è mia zia mamma mia è testarda è testarda puoi dirgliele le cose in tutte le lingue ma è molto testarda fa quel cioè tu gli dici una cosa però poi fa quel che vuole capito perciò è difficile difficile però dimagrire deve dimagrire perché appunto altrimenti non cammina più perché gli si sta a non camminare perché prima era molto attiva andava in macchina faceva camminava andava nei boschi quella poi gli è venuto fuori dolore alle anche specialmente all'anca destra e gli hanno detto che deve operarsi capito e si sta calcificando perché non non camminando tanto più come prima lei cerca di fare cicletto cosa per tenerla attiva però fa fatica perché ha male ma male capito però i medici adesso facendogli non mi dico se ne ha fatto l'attac credo hanno detto che si sta calcificando si sta calcificando perciò bisogna per forza operare capito per bisogna per forza operare però loro non si prendono la responsabilità perché pesando troppo e avendo anche più di 70 anni diventa anche pericoloso per l'anestesia e tutte le patologie che ha di salute capito ecco perciò gli hanno detto che minimo 20 chi dovrebbe diminuire capito ecco e perciò anch'io gli sto telefonando tutti i giorni cercando di continuare a dirglielo e a dirglielo a dirglielo a dirglielo a dirglielo e lei risposta risposta sua qual è stata non ce la fai te vuoi che ce la faccia io ha ragione pure qua che gli vuoi dire perché pure io pure io devo dimagrire per forza per il perché mi devo operare pure io al ginocchio o i legamenti il menisco da operare genotico il sinistro di fatto io non riesco a camminare tanto fare le scale tanto fare perché devo operarmi al ginocchio capito però anche a me mangià detto che finché non dimagrisco non mi opereranno mai non si prende nessuno la responsabilità perché poi con la riabilitazione col troppo peso si andrebbe a rompere un'altra volta capito perciò devo per forza pure io mettermi in testa e sta cazzo di dieta e farla veramente seriamente perciò mia zia che io gli vado a telefonare dire e fa le fa le fa le fa lei mi risponde ok se la fai te la faccio anch'io ok tu non riesci a farla vuoi che riesco io cioè le risposte sue sono quelle ecco perché pure lei quando si tratta di determinate cose come una bambina parte che dico anche quando si diventa anziani si diventa bambini però lei è un po come una bambina ti risponde così capito e che vuoi dirgli ecco basta ragazzi io so proprio piena non ce la faccio più questa la metto via ma proprio veramente so piena e vi do appuntamento al prossimo video vi mando un bacio mettete like se questo video vi è piaciuto scrivetevi se non siete iscritti vi do appuntamento al prossimo video vi mando un bacio da me dalla poche lì vediamo se no non si vede ma è lì che guarda fuori dalla finestra alla prossima ciao